Salutiamo il 2021 e abbracciamo il 2022 che sarà l'anno della metamorfosi. La città cambierà pelle per affrontare le prossime sfide dalla qualità della vita alla mobilità fino alla crescita economica e occupazionale. La città cambierà pelle per affrontare le prossime sfide dalla qualità della vita alla mobilità fino alla crescita economica ed occupazionale. L'ha annunciato il sindaco di Fano Massimo Seri durante la conferenza stampa di fine anno, trasmessa in diretta su Fano TV e sui nostri canali social. A suo fianco la presidente del consiglio comunale e tutti gli assessori, una squadra che non si cambia, ha precisato il primo cittadino, perché quello che conta detto è il risultato e i conti si fanno alla fine. La squadra è una famiglia, ci possono essere altri bassi, ognuno ha delle caratteristiche, io non sono uno dirompente, sono uno che vuole fare coesione. La persona sta sempre al centro, ci si aiuta quando si è in difficoltà, perché è troppo facile scaricare e sopportarsi uno sull'altro, le colpe sono sempre del sindaco. Possono esserci accorgimenti, possono esserci degli aiuti, degli aggiustamenti, questo in qualsiasi momento, però per quello che mi riguarda gli obiettivi sono quelli dei rapporti umani, dei rapporti personali e di una squadra che sa stare insieme. Il luogo scelto per l'incontro di stamattina è il pari centro, a dimostrazione della sensibilità e attenzione della giunta, spiegato Seri verso le pari opportunità e le diversità. Ed è proprio dall'uguaglianza e dall'aiuto alle persone in difficoltà che Seri ha iniziato a illustrare i dati del 2021 segnato dalla pandemia. 1.275.000 euro sono stati destinati a famiglie e persone tramite buoni spesa, contributi per gli affitti e il contrasto per il disagio sociale, mentre quasi un milione e mezzo per le attività economiche, ad esempio per il pagamento della Tosab e della tassa sui rifiuti. A Sant'Orso sono stati inaugurati punti unici di accesso e a Gimara il progetto Solimai con due nuovi appartamenti in cui oggi vivono persone con disabilità. Uno sforzo importante legato alla pandemia c'è stato anche nel settore delle politiche educative. Infatti sono stati aggiunti 110.000 euro per le scuole statali e 900.000 euro per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento delle attività sin dal primo giorno di scuola. Siamo stati premiati come miglior menù scolastico a livello nazionale. Primo premio al Food Insider di Milano. Siamo stati premiati a Roma al premio Mensa Verde al Forum by Green per la miglior gara d'appalto per la riflessione scolastica. Io penso che in Italia pochi possono vantare titoli di questo tipo. Anche il turismo ha risentito dell'emergenza sanitaria ma le scelte fatte come Fanan Plenair o le campagne promozionali hanno portato a grandi risultati quadruplicando le visualizzazioni sui siti internet passate da 500.000 ai 2.300.000. Anche se alcuni eventi sono saltati come la Fano dei Cesari, tanti altri, soprattutto culturali, hanno riscosso un grande successo. Ad esempio passaggi festival ed iniziative come Fano per Dante o Fano con Ruggeri, organizzate in collaborazione con altri enti. Il 2021 è stato anche l'anno della sicurezza e del decoro con le telecamere, l'assunzione di vigili urbani e autovelox. Nei prossimi mesi ne verranno installati altri, mobili e fissi. Sono stati riqualificati parchi, impianti sportivi, monumenti e rotatorie. Molte le problematiche risolte e segnalate tante volte anche su Fano TV. Un gioco che io faccio spesso anche con gli amici è pensate ad un problema di cui si è discusso in questa città negli ultimi 30 anni. Ad esclusione della zona dell'ex zuccherificio che è un'area privata, non dimentichiamolo. Sulle altre, su tutte abbiamo messo mano. In alcuni casi abbiamo già risolto i problemi, in altri sono più complessi, sono in via di risoluzione o in via di progettazione. E questo penso sia l'elemento che meglio può qualificare un'attività amministrativa. Già inaugurate il centro civico di Gimarra, la cave e la vasca di prima pioggia al Lido, le piste ciclabili di Ponte Sasso e di Via della Giustizia, tante le opere elencate da serie e altre tante quelle che verranno realizzate. Dagli asfalti per più di 4 milioni di euro alle due rotatori di Rosciano, dalle scogliere ai sottopassi del Lido e di via Nazario Sauro. Attesi il secondo e terzo stralcio del parco urbano, il taglio del nastro alla darsena borghese, la sistemazione di Viale Battisti e della Franna di Carignano, nonché il rifacimento dei parcheggi dell'ex abuario, del pronto soccorso e dello sport park, oltre a quello di via del risorgimento. Inoltre verrà stanziato un milione di euro per le retti fognari e si procede per l'interquartieri verso Gimarra, la ciclabile dell'Arzilla, il Sant'Arcangelo, la caserma di vigili del fuoco, l'ex caserma Paolini e il waterfront. Entro la fine del suo secondo mandato, Seri vorrebbe realizzare i primi progetti per il lungomare e dentro febbraio verranno coinvolti tutti i soggetti interessati, invece sul tema della sanità il sindaco si batterà per il mantenimento di servizi di qualità garantiti a tutti e per la riqualificazione del Santa Croce. Sì, sarà un anno dove raccoglieremo tutti i semi che abbiamo piantato in questi due anni. Ho chiuso l'anno con soddisfazione perché siamo riusciti ad appaltare tutti i progetti che avevamo programmato. Non era scontato, non era semplice e quindi chiudiamo con soddisfazione. Il 2022 sarà un anno di contanti cantieri che vedranno finalmente la loro realizzazione ma soprattutto significa dare risposte a quelli che sono i bisogni ma anche al miglioramento della nostra città, sia la sua bellezza sia i suoi servizi. Viaggeremo dalle manutenzioni, alle nuove opere, alle riqualificazioni. Insomma, sarà un 2022 importante per le realizzazioni ma anche per ulteriori nuove progettazioni che poi vedranno a loro volta la realizzazione e i cantieri nel 2023. Quindi sarà un giro di boa questo secondo tempo di questa partita, di questo mandato interessante e tutto giocato all'attacco.